1.587.000 euro per cambiare in 20 anni il parco di Termoli. Sono i numeri del bando vinto da un'associazione temporanea di imprese Vivere il Parco, che si è giudicata la gestione del polmone verde della città, rimasto per anni e abbandonato al degrado. Ambizioso il progetto che prevede il recupero degli immobili già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. La piscina all'aperto, che rivive solo nei ricordi dei termolesi, verrà rimessa in funzione. Previsto un intervento al Teatro Verde che, oltre all'incremento di 200 posti, comprende anche la copertura del palco. Verrà realizzata una mini pista per i go-kart, un percorso per le bici, un servizio di bike sharing, un lago artificiale, una fattoria con gli animali in cui organizzare percorsi didattici. Ma non è tutto, il progetto prevede anche un incremento dei posti auto, oltre che la realizzazione di una pista di pattinaggio e da ballo, con un chiosco bar, un campo da calcio 8, uno di pallacanestro. Sarà inoltre inserita un'area ricreativa polivalente destinata a sport come pallavolo e basket. Oltre al rifacimento in erbetta sintetica dei campi da calcetto, l'associazione verserà al comune che non riusciva più a gestire la struttura un canone annuo di 61 mila euro. Perché non ha più la possibilità di assumere dipendenti, così come avveniva in passato, tanti anni fa, e perché non ci sono più le condizioni economiche e finanziarie per poter garantire la gestione del parco comunale. Nell'ambito delle strategie che questa amministrazione si è data, così come con la piscina comunale, così come oggi era pubblicato il bando per il terminal bus, non esiste che la strada, insomma, in qualche modo, dell'esternalizzazione, facendo sì che quello che è un costo, una spesa per il comune e per la collettività termonese, diventi una risorsa. Fedele Leccesi, presidente dell'associazione Vivere il Parco, ha spiegato che si tratta di un'opportunità per i termolesi non solo sul piano dello svago e del tempo libero, ma anche su quello sportivo e culturale, annunciando che i primi interventi in programma riguardano la manutenzione del verde e la sistemazione delle aree gioco, dove saranno realizzati anche trampolini elastici, prevista anche una sorveglianza del parco 24 ore su 24, per evitare gli atti di vandalismo che si sono ripetuti negli anni.